All'interno del 24esimo congresso nazionale dell'Aipo si punta molto all'interazione tra ambiente e patologie, ovviamente l'apparato respiratorio, un dato di fatto che ormai non ha nessun dubbio. Certamente, solo per dare alcuni dati. Nel 2019 il 99% della popolazione mondiale viveva in zone con livelli di inquinanti che superavano i limiti suggeriti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E sempre nello stesso anno almeno 4,2 milioni di morti sono state attribuite all'inquinamento ambientale. Ora, noi sappiamo che l'inquinamento dell'aria svolge innumerevoli effetti negativi su vari aspetti della nostra salute, a livello del sistema cardiovascolare, del sistema nervoso e non da ultimo sul polmone, dove si sa già da molto tempo che aumenta la morbidità e la mortalità dei soggetti, aumenta l'infezione delle basse vie respiratorie, aumenta il cancro del polmone. Un ambito di cui abbiamo parlato stamattina, invece, diciamo, ancora un po' un aspetto ancora, diciamo, solo recentemente esplorato, che è il rapporto tra inquinamento e patologie polmonari rare, cioè le interstiziopatie polmonari. Però ormai negli ultimi anni, negli ultimi dieci anni, l'interesse su questo argomento è aumentato e ormai oggi noi sappiamo che anche su queste patologie rare polmonari, che però sono patologie molto gravi, l'inquinamento ha delle azioni negative. Sappiamo che aumenta l'esacerbazione acute di questa malattia, che sono degli eventi molto gravi nel decorso clinico dei pazienti, gravate da alta mortalità. Sappiamo che aumenta la mortalità dei pazienti affetti da queste patologie. Sappiamo che aumenta la progressione della malattia. E sappiamo anche, e a questo abbiamo collaborato noi con uno studio condotto a Regione Lombardia, che aumenta il numero di nuovi casi di patologia. Quindi un aumento dell'esposizione agli inquinanti si associa ad un aumento di insorgenza della patologia. Questo noi l'abbiamo trovato associato ai livelli di diossido di azoto, che è un inquinante associato soprattutto agli autoveicoli. E un recente studio poi ha confermato i nostri dati, ampliando queste informazioni e mettendo in evidenza un'associazione tra nuovi casi di fibrosi e livelli di diossido di azoto, ma anche di particolato, il cosiddetto PM2.5, che è quello che arriva più in profondità nelle vie aeree. In questo studio, pubblicato lo scorso anno su un'importante rivista pneumologica, è stato anche messo in evidenza che questo effetto dell'inquinamento negativo viene potenziato dalla suscettibilità genetica. Però se sulla suscettibilità genetica non possiamo fare niente, sulla qualità dell'aria qualcosa si può fare. Si possono modificare i nostri stili di vita, ma si può anche spingere su chi prende decisioni a carattere politico a cercare di intervenire per fare in modo che l'inquinamento dell'aria e anche il cambiamento climatico di cui si parla tanto in questi giorni si possa intervenire con delle azioni che portino a ridurli.